Direttore Gianattasio, già in queste ore il Presidente Govoni ci ha anticipato un po' l'impegno delle Camere dell'Emilia-Romagna per rispondere a due fondamentali esigenze del mondo produttivo, cioè la liquidità finanziaria alle imprese e soprattutto poca burocrazia. Le chiediamo se questi due obiettivi non si dovessero raggiungere in tempi brevi per molte imprese, sarebbe un disastro? Ricordiamo che molte imprese sono già in difficoltà. La premessa è che l'Italia Ferrara per me ce la faranno, però è necessario evitare il collasso del presente per poi rilanciare la produttività. Noi dobbiamo evitare il collasso del sistema delle imprese che per Ferrara in particolare non rappresentano solo una peculiarità, ma sono il senso storico del nostro territorio. Per far questo sono necessarie risorse che arrivino immediatamente e che permettono alle imprese di far fronte alla caduta della domanda e al tempo stesso alla rottura della catena del valore. Questo è importante perché anche imprese che prima del Covid avevano bilanci solidi, adesso soffrono. Se dovesse questa situazione permanere così com'è a fine giugno, noi abbiamo stimato che per il 2020 Ferrara vedrebbe una ricaduta del suo prodotto interno lordo pari al 6,4%. Una riduzione del meno 6,4% vuol dire poste di lavoro in fumo, vuol dire saracinesche che non lo riaprono più. Ecco, lei un po' ha anticipato la domanda che infatti le volevo fare, però le chiedo, ricordiamo che la provincia di Ferrara rispetto a tutta l'Emilia Romagna è sempre stata considerata un po' la cenerentola, quindi registrava già forti difficoltà in certi settori e da un certo punto di vista. Quindi le previsioni che lei ci ha fatto sono proprio quelle che voi avete fatto come osservatorio di Camera di Commercio, sono numeri abbastanza certi? Diciamo che abbiamo lavorato sia con Union Camera ma anche con l'ufficio studi di Prometea e devo dire che questo è il dato che abbiamo prospettato con una serie di elaborazioni. Dietro i numeri però ci sono famiglie, ci sono sacrifici, ci sono lavoratori, ci sono imprenditori che ancora oggi piuttosto che preoccuparsi di come fare per il futuro si preoccupano di come non far perdere il posto di lavoro a collaboratori che sono di se stessi delle famiglie. Noi dobbiamo pensare a questo, i numeri alla fine ci danno un'indicazione seria di come muoverci, ma è altrettanto vero che spesso si pubblicano però quell'immagine vera che prima io le ho detto, senza le imprese non c'è lavoro, non c'è relazione, non c'è comunità e un territorio è destinato ad implodere e quindi non è tanto quante risorse arriveranno, ne abbiamo anche stanziate le risorse occorre però che arrivino immediatamente. Adesso leggevo una dichiarazione di ABI, sembra che da lunedì partano anche i contributi a fondo perduto speriamo, noi adesso il programma convocheremo a breve le banche, dobbiamo evitare assolutamente il collasso del presente. Ecco, il nuovo presidente di Confindustria che lo ricordiamo arriva da Asso Lombarda, Lombardia certamente una delle regioni più colpite da un punto di vista sanitario, sociosanitario da questa emergenza, ha parlato proprio di economia di guerra, lei ci ha già anticipato che potrebbe esserci liquidità a fondo perduto, che cosa significa questo per le imprese? Guardi, io intanto vorrei farle una premessa, noi per il bene superiore assoluto della salute abbiamo approvato delle misure non convenzionali hanno privato tutti noi giustamente della nostra libertà e al tempo stesso il sistema delle imprese merita misure non convenzionali ugualmente, così come è avvenuto per la salute, anche per la salute dell'economia occorrono azioni straordinarie non si può regolare e disciplinare questa emergenza con delle regole e con degli approcci vecchi non ce lo possiamo permettere. Per quanto riguarda invece il tema dell'economia di guerra sì è vero, siamo in una guerra e come le dicevo un periodo di guerra presuppone delle scelte e delle azioni non convenzionali io davvero mi auguro che intanto sul territorio ma evidentemente anche sul piano nazionale ed europeo questo lo si capisca il prima possibile Ecco, c'è però chi si oppone diciamo così a interventi che sono eccessivamente in deroga rispetto anche alle norme vigenti ecco ad esempio le imprese chiedono di semplificare al massimo i cicli degli appalti i sindacati però si oppongono Ma guardi, io non credo che i sindacati si oppongano credo piuttosto che i sindacati il più possibile intendano focalizzare ogni procedura come giusto che sia nell'ambito di un quadro normativo certo è altrettanto vero però che io non credo, perché non faccio processi alle intenzioni non credo che il sistema delle imprese a prescindere con la deroga voglia approfittare di che cosa dovremmo trovare un equilibrio che possa appunto coniugare il rispetto della legalità e quindi del lavoro altro bene supremo, con però la necessità di svecchiare questo paese e di fare in modo che questo paese non muoia, non venga affossato da burocrazia non voglio tediare adesso su quanto ancora la burocrazia pesi però le confesso una cosa, una cosa gliela devo confessare ero convinto che in questo momento straordinario il paese avrebbe fatto a meno di una buona fetta di burocrazia, cosa che non è assolutamente avvenuto è questo che poi lascia la mano in bocca gli imprenditori hanno bisogno di soldi sicuramente, hanno bisogno di vicinanza sicuramente però hanno anche bisogno di una vita un pochino più semplice per poter ragionare anche per il futuro perché loro già ragionano sul futuro gli imprenditori non si fermano mai al presente già ragionano sul futuro e quindi bene le riaperture benissimo che le riaperture rispettino la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli stessi imprenditori però dobbiamo immaginare comunque delle azioni e degli strumenti nuovi quindi confermiamo che insomma l'Italia è il paese di Azecca Garbugli come ci insegnò Manzoni ecco parliamo di Ferrara ricordiamo che sono tanti i settori colpiti tantissimi, abbiamo parlato di turismo parliamo di agricoltura perché Ferrara vive prevalentemente di agricoltura qui c'è bisogno di forza lavoro forza lavoro che però non si trova e che per certi aspetti è anche una contraddizione rispetto a tanta cassa integrazione che insomma c'è ed esiste ecco che cosa ne pensa lei rispetto a questa situazione, a questo fatto? ma guardi l'agricoltura non solo ferrarese sta vivendo dei mesi particolarmente difficili prima ancora del Covid ha vissuto e vive dei momenti difficili ancora oggi viviamo una primavera di grande siccità quindi stampiamenti climatici il tema dell'agricoltura le infezioni e a tutto questo si è aggiunto il Covid e a tutto questo si aggiunge la manodopera nei campi agricoli io credo che il tema della manodopera che in questo momento è un'assoluta criticità sia però un tema che già le organizzazioni del settore hanno più volte evidenziato e anche lì anche lì su come inquadrare questa manodopera su come fare in modo che sia funzionale a chi fa impresa nel rispetto appunto del lavoro c'è una grande inadeguatezza delle norme il lavoro stagionale ha una serie di definizioni normative che però sentendo anche gli imprenditori anche queste sono un po' superate non riescono a dare una forte risposta anche alle emergenze di questo periodo quindi sicuro io non voglio credere che il comparto agricolo non sia accattivante noi nella nostra provincia anche come Camera di Commercio ancora oggi registriamo imprese innovative in agricoltura ragazzi giovani ingegneri che si dedicano al settore agricolo quindi non è un tema di poca appetibilità piuttosto è come il settore agricolo possa superare anche alcune difficoltà normative anche nei rapporti con in particolare con le lavorazioni stagionali parliamo adesso del turismo e anche di tantissimi eventi perché è l'altro grande pilastro e settore per quanto riguarda Ferrara ricordiamo anche Ferrara Città d'Arda è proprio questo queste attività probabilmente saranno anche le più penalizzate nella fase 2 quando arriverà ecco stiamo parlando di attività che sono aggreganti di natura di fatto e che certamente dovranno fare i conti ancora con le misure di distanziamento sociale ecco le chiediamo per loro ci sarà una ripartenza come sarà questa ripartenza e se ci sono insomma delle azioni che stanno mettendo in campo alternative già che queste aziende stanno mettendo in campo ma guardi sicuramente il turismo la ricettività la ristorazione è uno di quei settori che ne risentirà più a lungo l'ha detto lei prima perché vive di aggregazione di relazione vive di gusto per la libertà di movimento e quindi sicuramente nel breve e medio periodo davvero avremo tantissime difficoltà intanto però le imprese già si stanno organizzando anche con per esempio la ristorazione a casa è un esempio che non può essere strutturale oppure di lungo periodo però è già una prima risposta che gli imprenditori si danno oppure anche diversi alberghi che stanno ospitando anche persone in quarantena quindi diciamo che il mondo dell'impresa il suo lo fa bisogna da una parte però fare in modo che il turismo viva anche delle soluzioni diverse io sono convinto che fino a quando dovremmo convivere con il virus si vivrà e si comincerà piano piano anche a vivere un turismo in modo certamente diverso ma lo si vivrà ma certamente però nel medio periodo occorrerà anche attraverso campagne straordinarie di comunicazione rilanciare l'immagine di ciascun territorio poi tra l'altro magari qualcuno che mi sente dirà che io tifo per Ferrara ma abbiamo un territorio così bello che sicuramente non avrà difficoltà per riposizionarsi come le dicevo prima questo vale anche per il turismo noi dobbiamo evitare che in questo momento le imprese muoiano perché tante imprese che oggi muoiono non riapriranno dopo questo dobbiamo non dobbiamo pensare che le imprese riapriranno saranno le imprese che adesso non riusciamo a supportare a sostenere e qui dovessero chiudere i battenti è molto difficile che le riapriranno dopo quindi dobbiamo adesso ragionare adesso sull'immediato e poi rilanciare qualunque altra azione per la produttività e questo anche per il turismo parliamo adesso del settore manifatturiero perché il PIL ferrarese è fortemente dipendente dall'export delle nostre aziende anche se sono poche insomma manifatturiere ecco ne chiediamo qual è la situazione di questo settore e se anche qua è possibile fare delle previsioni è un settore evidentemente in grande sofferenza soprattutto perché come le dicevo prima occorre ripristinare le catene del valore le relazioni non solo nazionali ma tante nostre imprese in particolare dell'alto ferrarese lavorano con i mercati internazionali e quindi è fondamentale che al più presto questo paese possa riavviare alcuni circuiti economici dando sempre priorità alla salute ma che però questi circuiti devono necessariamente essere avviati il manifatturiero a Ferrara ha una sua valenza le prima diceva sono poche è vero non abbiamo tantissime imprese però quelle che abbiamo sono di assoluta eccellenza e non solo quelle medio strutturate ma anche piccole abbiamo tantissime piccole imprese artigiane che sono che innovano giorno dopo giorno e che non hanno nulla da invidiare rispetto a imprese che operano anche in questa regione e non nella nostra provincia e quindi anche qui noi dobbiamo porre le condizioni affinché queste imprese che ricordo a tutti continuino ad avere dei costi fissi possano onorare questi costi possano con una liquidità sufficiente fra fronte a quello che oggi non hanno perché poi alla fine gli imprenditori sanno quello che devono fare noi dobbiamo solo mettere in condizione di poter resistere in questa fase e poi vedrà che certamente sapranno riposizionarsi sul mercato un mercato che cambierà notevolmente sia riposizionando i propri prodotti sia riposizionando i propri servizi e a proposito di ristoro di fondo perduto uno degli interventi della Camera di Commercio andrà proprio in questa direzione cioè noi abbatteremo totalmente i costi che le imprese pagherebbero di interesse per dei prestiti qui apro una parentesi è assolutamente inverosimile che oggi le imprese debbano indebitarsi per rimanere sul mercato in una situazione così come quella che stiamo vivendo davvero è una situazione io mi sarei aspettato altri tipi di intervento addirittura congelare intere filiere fare in modo che nel momento straordinario non ci fossero costi da pagare o si è scelta la via del prestito si è scelta la via e allora se però di prestito bisogna vivere almeno noi faremo in modo che le imprese non paghino nulla di più rispetto alla restituzione di quello che avranno perché altrimenti davvero sarebbe una roba davvero inverosimile cioè noi chiediamo delle imprese che stanno morendo di indebitarsi per non morire ecco questa è un po' la logica alla quale il paese ha pensato e speriamo che però sia una logica che il più possibile si riesca a mitigare ecco le chiedo chiudiamo questa propria intervista questo approfondimento che messaggio possiamo dare in queste ore in questi momenti in cui si sta aspettando la ripartenza la fase 2 come ripartire lei ha spiegato tutti le luci e le ombre dei provvedimenti che sono stati presi a livello governativo regionale e quant'altro che messaggio possiamo dare agli imprenditori in queste ore allora guardi tanto io ho avuto la fortuna di vivere diverse realtà italiane da Varese Catania Cagliari Novara e le devo dire che la tempra che io quotidianamente ascoltando sentendo gli imprenditori qui di Ferrara è una tempra non comune ecco perché all'inizio le dicevo ce la faremo Ferrara ce la farà per quanto riguarda le istituzioni a cominciare dalla Camera di Commercio c'è l'obbligo l'obbligo di lottare ogni giorno ogni minuto affinché il sistema economico regga questo momento difficile e per quanto riguarda la Camera di Commercio gli imprenditori devono sapere ma lo sanno che noi ci siamo ci siamo ogni giorno noi diciamo al di là del Covid siamo qui operativi ogni giorno la sede di Largo Castello la sede di Cento sono aperte ma perché questo perché oggi ci sono imprenditori che le faccio un esempio anche sui codici a te con capire ma come riconverto come faccio come non faccio noi abbiamo creato un sistema per cui un imprenditore da casa col proprio smartphone può tranquillamente vedersi da solo il suo codici a te per capire come convertirlo piccoli segnali che però secondo me sommati danno il senso di una presenza perché l'imprenditore non vuole sentirsi solo in alcune scelte le scelte le compie ma è importante che il sistema pubblico il sistema di relazione faccia sentire l'imprenditore meno solo e io sono convinto che ancora una volta le piccole e medie imprese porteranno Ferrara fuori al di fuori di questo momento drammaticamente difficile grazie direttore buon lavoro grazie a voi grazie a voi